Questa è la dimostrazione non di una contestazione, ma di delinquenza e chi non vota il 31 maggio è complice di questi delinquenti che ragionano a uova, a sputi e a sassate. Questa non è politica, questa è roba da terzo mondo. No, non è dimostrazione. Fai a palla! Avete difeso un mascarazone! Avete difeso un mascarazone!